Partiranno l'8 maggio i lavori di riqualificazione di via Nicola Fabrizia, assessore Natarelli. Parliamo di una delle strade più importanti di Pescato. Certo, è una strada importante che ha un certo degrado e quindi abbiamo pensato che era fondamentale farla nel più breve tempo possibile. I lavori partiranno l'8 maggio. Abbiamo un'ordinanza dall'8 al 16 maggio, però noi speriamo, in tempi più brevi, speriamo anche di dimezzare i tempi per la realizzazione del manto stradale. I lavori di piazza San Francesco invece sono già iniziati, parliamo di un'altra zona. Sì, sono già iniziati, abbiamo fatto la scarificazione, faremo a seguire via Meritignoto e via Regina Margherita. La mobilità sarà gestita in questo modo, noi lasceremo aperte tutte le vie di transito verticale rispetto a via Nicola Fabrizia e le chiuderemo soltanto nel momento in cui sarà messo il manto stradale.